Un'apertura straordinaria per allontanare lo spettro della chiusura. Il paradosso delle librerie napoletane si consuma in una notte d'estate. Otto librerie storiche, punti di riferimento per tantissimi lettori, hanno prolungato per una sera il loro orario d'apertura accogliendo curiosi e compratori fino a notte fonda. Al Corso Umberto, dove è difficilissimo trovare qualcosa di vivo dopo le 21, Paolo e Renato Pisanti hanno accolto i loro ospiti con stuzzichini, vino e con la lettura di alcuni brani. Festa che vuole in qualche modo ricordare ai napoletani che le librerie esistono, ci sono librerie vive, librerie che propongono, nonostante negli ultimi anni ne abbiano chiuse 40, c'è senz'altro una quantità di librerie che in qualche modo può soddisfare le esigenze dei clienti, perché, l'ho detto mille volte, gli azionisti delle librerie sono i clienti, bisogna andare in librerie e comprare, l'unico modo di sostenere una libreria è quello di comprare un libro. Paolo Pisanti, che abbiamo ascoltato, ha organizzato con gli altri librai di Napoli e l'assessorato alla cultura del comune questa serata per invitare tutti i prossimi vacanzieri a partire con un libro. Pino Imperatore e Anna Barbato, entrambi i napoletani che hanno letto alcuni brani dei loro libri, invitano tutti a leggere. Noi siamo nati come lettori, le incredibili letture che abbiamo fatto ci hanno portato a scrivere, quindi questo è fondamentale per creare questo rapporto ancora più forte. Sinceramente sono un esordiente, ho pubblicato adesso il mio primo libro e sono molto contenta di presentarlo qui in questa libreria storica e prestigiosa nell'ambito di un'iniziativa che ha un titolo, parte col libro, davvero interessante perché in effetti quando si parte si fanno viaggi e quando si parte con un libro i viaggi posso dire che diventano due. Anche Peppe Lanzetta ha offerto la lettura del suo ultimo libro agli ospiti, un modo per invogliare tutti a leggere. Ci vuole un po' di industria culturale, di impresa culturale, più coraggio. Ecco, se gli editori napoletani riescono a trovare la forza anche per imporsi di più c'è una discrasia tra editoria e autori. Napoli ha molti autori ma gli editori che ci sono in qualche modo fanno fatica e sono un po' arrancano.